Benedetta Rossi affronta il tema dell'importanza di un'alimentazione corretta con un video particolarmente diretto e senza sconti, la testimonianza social Benedetta Rossi alle prese con i brufoli La celebre cuoca di Porto San Giorgio, dopo aver rassicurato i fan che non li avrebbe lasciati soli neppure durante le vacanze, affronta un tema delicato legato all'alimentazione, quello dell'acne legata non alla gioventà alla prima, ma a un regime alimentare alterato La stessa chef sottolinea come un'alimentazione bilanciata possa evitare certi fenomeni sulla pelle Un regime circostanziato, fatto di dosi, qualità e proprietà nutritive ben precise può al quadrato essere la soluzione, le parole della cuoca, in tal senso, sono perentorie Questo brufolo sul viso non mi dà pace Ma lo so da cosa dipende, durante le vacanze mi sono lasciata un po' andare Dopo le ferie mi devo mettere a dieta a confessa su Instagram ha arrivato il momento di tornare a prendersi cura di noi stessi Pia ha la prima attenzione e meno stravizi La rivelazione spiazza i fan che comunque seguono i consigli di quella che ormai ha la loro guru Leggi anche a Benedetta Rossi, le conseguenze di un'alimentazione troppo pesante, il video parla chiaro rivelazioni senza remore che possono aiutare i follower ad avere maggiore cura, specialmente in autunno e inverno, del proprio regime alimentare Una cucina sana e ponderata può al quadrato aiutare sotto molteplici aspetti, anche quello relativo alla cura e alle risposte del proprio corpo, a tutto collegato Una spesa e un'alimentazione consapevole alla certezza di un organismo Pia alla prima sano Per vedere la testimonianza di Benedetta Rossi a questo significa rendere informati i propri follower con semplicità e credibilità La situazione ottimale possiamo crearla in qualsiasi momento con gli abbinamenti Pia alla prima giusti Non solo a tavola, Benedetta Rossi ha fatto della schiettezza e la cultura alimentare il proprio mantra I risultati si vedono e traspare anche l'umiltà di chi ha in grado di rimettersi in carreggiata dopo un periodo di bagordi L'importante, dopo aver staccato la spina per un po', a ritrovare il ritmo abituale Non solo legato ai pasti, ma anche alla possibilità di vivere a senza troppo smarrimento a momenti conviviali facendo leva sui giusti ingredienti che, non sempre, sono in cucina Tags Tags